Il percorso diagnostico di Elettra è stato piuttosto lungo e complesso, in realtà i primi sintomi sono già iniziati nei primissimi mesi di vita perché all'età di tre mesi circa ha avuto un episodio di scossa e per questa ragione siamo andati al pronto soccorso ma era stato classificato come un sintomo di un reflusso gastrico, in realtà in seguito capimmo che si trattava già di segni di una epilessia. C'è poi stato un altro sintomo particolare perché durante l'allattamento lei rifiutava il ciuccio e il biberon e teneva spesso la lingua fuori dalle labbra. Bisogna poi andare un pochino avanti perché bisogna fare un salto fino all'età di due anni quando è comparsa una anisocoria. Anisocoria ovvero una pupilla aveva una dilatazione differente rispetto all'altra. In quel caso siamo stati da specialisti oculisti che non hanno rilevato alcun problema nella vista di Elettra e per questa ragione siamo stati rimandati ad un approfondimento di tipo neurologico. Abbiamo fatto una risonanza magnetica, il problema è stato che si temeva che l'anisocoria fosse causata dallo schiacciamento del nervo ottico dovuto ad un tumore, quindi si stava cercando una massa che non c'era, ma in verità dalla risonanza magnetica si sarebbe già potuto capire che qualcosa non andava nella sostanza bianca di Elettra. Pubblicamente poi i sintomi, quindi diciamo sotto gli occhi di tutti, sono in realtà iniziati più tardi, all'età di tre anni e mezzo circa, quando all'asilo ha cominciato a non trattenere più l'urina, a inciampare mentre giocava con gli altri bimbi e a isolarsi, quindi ha avuto anche dei cambiamenti di carattere. Ed è stato in quel momento che il pediatra ha ipotizzato la necessità di fare degli approfondimenti di altra natura e siamo approdati all'ospedale pediatrico di Alessandria dove è stata fatta una visita neurologica e anche se in quel momento non siamo ancora arrivate ad una diagnosi, però il medico aveva già intuito che non potevamo trattare tutti questi piccoli sintomi che apparentemente erano innocui, il fatto appunto che non tenesse più l'urina perché poteva essere anche semplicemente stanchezza o l'asilo, insomma le cause potevano essere davvero infinite, ma lui ha capito che in realtà questi sintomi dovevano essere correlati e quindi bisognava fare un approfondimento. Abbiamo prenotato proprio in quel momento un ricovero specifico all'ospedale Regina Margherita di Torino dove è iniziato l'iter vero e proprio per arrivare ad una diagnosi. Noi abbiamo avuto molti segnali. Eletra cercava di scendere uno scalino e non ci riusciva facendo un movimento come dire cadenzato, cioè metteva il piede un po' avanti per appoggiarlo sullo scalino sottostante e poi lo ritirava su a mezz'aria. Quindi lei voleva scendere le scale. Diceva alla gamba avanza e scendi, la gamba cominciava a farlo e poi smetteva, come se la trasmissione si incantasse. Un'altra cosa tra l'altro devo dire personalmente molto triste è stata questa. L'asilo è vicino a casa, per fortuna. Io andavo a prenderla verso le quattro del pomeriggio. Uscendo noi facevamo a piedi due passi per venire a casa. In questo quarto d'ora, quando ancora stava bene, Eletra parlava in continuazione. Cosa aveva mangiato all'asilo, la fiabaletta, gli amici a cui aveva giocato, tutto. Fino a gennaio 19, febbre alta, quindi MLD purtroppo partita. E in quel caso lì ero arrivato io al punto di chiederle cosa hai fatto oggi, cosa hai mangiato, con chi hai giocato, che fiaba hai letto, come stai. Quindi dovevo stimolarla alla conversazione. Per un po' mi ha risposto, dopo un po' ha smesso. Fino poi chiaramente a quando la parola è scomparsa. Personalmente quando è arrivata questa prima diagnosi ero abbastanza preparata perché comunque io ero in ospedale, stava in ospedale con Eletra e vedevo le reazioni dei medici e degli infermieri. In particolare un'infermiera molto sensibile, probabilmente ha le sue prime esperienze, non riusciva a trattenere le lacrime quando era con me, con Eletra. Diciamo che in quel momento avevo ancora la speranza che ci potesse essere una cura. Sapevo che poteva esserci la cura, c'era già anche subito stato comunicato, ma non sapevamo ancora che invece era già troppo avanzata la malattia e che quindi non ci saremmo potuti mettere in vista per la terapia genica. Da genitore che ha dovuto subire una diagnosi rallentata e quindi una diagnosi poi nefasta, so esattamente cosa significa stare dietro al tempo, non perdere tempo e anzi possibilmente avere già una diagnosi nelle prime fasi di vita del bambino e quindi una diagnosi che possa essere fatta neonatale. In Toscana è partita proprio una sperimentazione di screening per la malattia della leucodistrofia metacromatica. Da genitore avessi avuto la possibilità di scegliere di poter eseguire anche quello screening, probabilmente pur non conoscendo all'epoca il nome della malattia avrei scelto di farlo e quindi auspico che non soltanto la Toscana ma anche altre regioni tra cui il Piemonte possano presto adottare questo screening alla nascita. Se dovessi parlare con un pediatra e dargli un consiglio da mamma gli direi innanzitutto di dare più ascolto all'istinto materno perché noi mamme abbiamo spesso paure e paranoie ma siamo a contatto tutto il giorno con i nostri figli e ci accorgiamo del minimo cambiamento e ci insospettiamo per il minimo cambiamento. Un secondo secondo me preziosissimo consiglio è quello di ricordarsi che siamo un insieme di tanti pezzi quindi non rimandare sempre solo dallo specialista che guarda il piede, l'orecchio, la gola ma ricordarsi dell'olismo e che quindi tutti i pezzi poi fanno parte di un quadro più grande perché è solo in quel momento che ci si può rendere conto che la malattia è una malattia complessa come è complessa la leucodistrofia metacromatica. Grazie a tutti.